Raga, 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 demone è morta, non mi risponde più, guardate, ha detto, cao, vado, adios, però avevo già finito il video, questo uscirà però prima, poi uscirà il primo, aspettano, qua non dovete leggere, oppure poi lo vede pure, che è uno stalker, sto qui poi. Ok, ciao, vado, adios, poi l'ho già finito, sorry, demone, poi dopo un pochino, 21 e 7 più, 26, domani il 27, giorno della memoria, tutù, e farò il video speciale. Ok, questo è uno spoiler, però, e vabbè, demon, ci sei, ho scritto pupù, no, uv, ecco, non so come si dice però, non so come, si legge così? O, v, o, v, o, però, uv, credo, o, v, o, ok, demon, ci sei? Raga, demone è morta, ho scritto, raga, demone è morta, perché fa, perché lì è andata, ha detto, vado a mangiare, mo, vado a, come avete visto, guarda, io vado a mangiare, scritto qui, io vado a mangiare, cao, demon ci sei? Raga, demone è morta. Aspettate, che questa è un'amica di, cosa, non so come si chiama, è un'amica? Ciao, sono padre, è la sorella di Davide, ecco, raga, poi io so, come fare, avete visto, sti tickles, troppo bello, ok, però, io devo sapere in quale gioco lei ci sta, ancora non mi ha risposto, secondo me, veramente è morta. Andiamo sui followers, ma io posso gioinare il game dei miei followers, però il mortale ancora non ha un film da turno, e vabbè. guarda, guarda, poi, torli, di fidoli, torli, io. Ancora ste cose de merda. Raga, demone è morta. Raga, non ti prego, raga. Eccs. Tatatatà, sorry, raga, demone ci sei, raga, demone è morta. Eccs. Nani! Perché ho un amico come te? Non so ne manco perché io sono amica con te, non lo so ne manco. C'è ue da me, ne... Dobbiamo scoprire se è morta. Esatto! Come, non lo fa scrivere? No, non lo fa scrivere. Ah, mamma l'ha fatto scrivere. Guarda, io con sta faccia sono troppo sexy con sta faccina. E lui mo se n'è andato. Ma c'è detto, ma vuoi aiutà o noni? Vabbè, raga, sto meglio finisci qua.